Ok, perfetto. Allora, iniziamo con la solita intro, quindi 3, 2, 1, action! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Cobra Scacchi e Passione. Oggi andremo a riprendere il torneo del lunedì Blitz all'Accademia, come molte volte abbiamo fatto. Quindi io vi ringrazio, riprenderemo la prima scacchiera come al solito. Riprenderemo la prima scacchiera come al solito. Quindi, se volete supportare il canale, vi chiedo di mettere un'iscrizione e perché no? Un mi piace al video se vi è piaciuto. Detto questo, io vi ringrazio tutti quelli che stanno creando nel canale, siamo vicini ai 15.000. Magari quando pubblico il video saremo oltre i 15.000, io lo spero. Vi ringrazio a tutti di cuore e ringrazio tutti quelli che mi sopportano ogni giorno. Grandissimi e sopportano ovviamente. Grazie a tutti e andiamo al torneo. Grazie mille. Buona prima. Argiz Pala. Bella partita, eh? Prima scacchiera. Argiz Pala. Nero, prima scacchiera io nero. Seconda scacchiera, carbone d'amore. Ottimo. Ok, andiamo. Terza scacchiera, anella di Stefano. Vai, vi lascio alle partite ragazzi. Ok. Iniziamo la registrazione, tu sei sempre il solito... Sempre Giorgio Pala, non ho cambiato. Ci dà il permesso, perfetto. Giovanni, ci dà il permesso di registrare? Giovanni Marino? Perfetto. Grazie. Settimi. Ah, io sono sempre. Noi ci mettiamo. Fidelio, ben pensato. È veloce. Buona partita, Bianco e Moto. Buona partita. Buona partita. Partita. Buona partita. Buona partita. Buona partita. Grazie a tutti. 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 Scusa. Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo finito. il torneo. io ringrazio. tutti. tutti. e tutti. a tutti. vai. a tutti. Grazie a tutti.